Specializzarsi post laurea in medicina termale? Dal prossimo anno accademico sarà possibile farlo. Lo ha annunciato Federterme nel presentare un protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Termali. Nei prossimi mesi partiranno infatti in diverse università italiane specializzazione in medicina termale. Subito dopo Pasqua Federterme si riunirà per valutare la possibilità di finanziare delle borse di studio per i neolaureati che le frequenteranno. Questa possibilità di studio, ha precisato il referente nazionale della Scuola di Specializzazione di Medicina Termale, sarà offerta a tre neolaureati che vi accederanno per concorso. Per tre anni si specializzeranno in medicina interna, gli ultimi due li passeranno tra ospedali e terme. Con questa specializzazione, sottolinea Federterme, verrà rimarcata l'importanza delle cure termali e ci saranno nuove leve mediche che guarderanno le terme come una possibile attività professionale, tra l'altro in forte espansione con l'estendersi della cultura del fitness e della cura del corpo che vede le terme come bacino preferenziale di queste attività, oltre ad acquisire una specifica professionalità che non potrà che portare ad una maggiore diffusione della pratica delle cure termali, data anche la loro comprovata validità, fra le possibili opzioni per prevenire e risolvere numerose affezioni fisiche.